Siamo qui con l'amico Henry Bullo, presidente di Obiettivo Q, già ex presidente del Consiglio Comunale e sempre molto attento ai problemi della città, anche se ha finito il suo periodo istituzionale comunque continua a impegnarsi e ci fa molto piacere. Il tema su cui ti vamo chiedere è quello della Romea, abbiamo visto che hai fatto diversi interventi diciamo c'è sempre questo problema dei camion che passano, ci sono queste proposte che francamente ci sembrano un po' difficili portare avanti però tu dici e l'hai dimostrato che in alcune situazioni effettivamente il traffico pesante e sta su altre realtà, è stato spostato praticamente. Sì, buongiorno intanto, ho letto ieri una locandina della stampa che parlava di un coro dei Vescovi per gli incidenti dell'A4, noi di Obiettivo Chioggia non siamo Vescovi però il coro lo facciamo per gli incidenti dell'Aromea. Io sostengo, noi sosteniamo da tempo che spostare il traffico pesante non nostro nella vicina autostrada e mettere in sicurezza l'Aromea con sistemi di controllo, di supervisione e di informazione sarebbe una cosa importantissima e sicuramente renderebbe il flusso più adatto alla portata della strada e porterebbe chi la percorre a una guida più prudente e più attenta. Questo sicuramente sarebbe un beneficio e ridurrebbe, secondo me, di molto l'incidentalità. Ecco, su questo voglio dire, la nostra città è rappresentata in regione con tre consiglieri regionali che sia in opposizione in maggioranza, è rappresentata nel CDA di Cava Autostrade con un consigliere Chioggia, ha un sindaco forte, bravo, eletto con un buon numero di voti. Quindi io a queste figure importanti istituzionalmente chiedo cosa pensano di questa nostra proposta e lo chiedo perché fino ad ora non li ho mai sentiti esprimersi specificatamente su questa proposta. Quindi è un appello al sindaco, ai consiglieri regionali, anche ai consiglieri di Cava che rispondano cosa ne pensano di questo tema. Cosa ne pensano, perché se sono d'accordo ci devono dire cosa hanno fatto per questo oppure cosa intendono fare. Tutto qua. Attendiamo fiduciosi perché il problema sta diventando veramente importante, tragicamente importante. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.